Mi domando perché l'Australia ha aperto i confini con la Germania che ha un numero di contagiati molto simile a quell'italiano. O uno o l'altro vuole legittimamente tenere chiuso tutto perché dice non voglio avere rapporti con altri paesi dove i contagi sono numerosi oppure apre con tutto, non è che decide arbitrariamente a dispetto di qualsiasi dato oggettivo con chi aprire o con chi chiudere. Perché altrimenti, benissimo, faccia pure questa scelta ma a quel punto noi faremo le nostre. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga non rinfocola né smorza la polemica innescata dalle decisioni di Vienna in merito alla riapertura delle frontiere con il nostro paese. Ora, sottolinea Fedriga, il pallino è nelle mani del governo che a suo dire deve adoperarsi non solo con l'Austria ma anche con altri paesi europei. Mi auguro che il nostro paese utilizzi tutte le armi che ha a disposizione affinché si torni a una normalizzazione della mobilità all'interno dell'Unione Europea. Non è accettabile che qualche paese utilizzi la scusa della pandemia in realtà per creare un dumping, una concorrenza sleale dal punto di vista del comparto turistico. Perché evidentemente abbiamo paesi che hanno situazioni pandemiche molto simili e non è giustificabile dal punto di vista sanitario decidere di aprire con un paese e non con un altro. È chiaro che questo tipo di scelte sono dettate semplicemente da un opportunismo di carattere economico a cui l'Italia non può starci. Al momento però non sembra che Roma si stia muovendo in modo palesemente efficace e Fedriga non ha problemi a dirlo, aggiungendo anche una considerazione che riguarda non tanto la cancelleria austriaca quanto la popolazione austriaca. Ma io sto interloquendo col Governo. Devo dire che risposte concrete in questo momento non ce le ho. Sono convinto però che ci metterà tutto l'impegno possibile per farmi avere nel più breve tempo possibile delle risposte concrete. Perché oltretutto noi parliamo da una regione che ha un numero di contagi molto limitato, addirittura più basso di alcune zone austriache, voglio stolineare. E quindi è ingiustificabile questo tipo di atteggiamento perché oltretutto i cittadini austriaci sono con noi, sono dalla nostra parte. Anche molta stampa austriaca ha criticato le scelte del Governo di Vienna. Anche il Presidente Tellen della Carinzia è dalla nostra parte. Quindi è inaccettabile che a livello viennese si continui a tenere questa posizione. Sempre parlando di confini, ma di quelli fra le regioni italiane, la data del 3 giugno, quando cioè ci si dovrebbe poter spostare senza problemi, è sempre più prossima. E anche in questo caso la nostra regione è tranquilla. La dipenderà dal numero di contagi che si verificheranno in questi ultimi giorni. Quindi capire se anche Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte possano riaprire i confini o no. Per quanto riguarda la Florenza Giulia, sembra ormai un dato certo che noi quel problema non ce l'avremo di chiusura della mobilità fra regioni.